Tu hai fatto scienze motorie, intanto stavi lavorando in ambito di palestra come personal trainer. Quali sono state le caratteristiche, i suggerimenti che daresti a una persona che diventa un professionista, un personal trainer dopo che ha fatto il percorso di scienze motorie? Ma allora sicuramente il consiglio che gli do è quello di non aspettare magari di fare il tirocinio al terzo anno per conoscere il mondo del lavoro, perché purtroppo o per fortuna le conoscenze che uno può acquisire sul campo sono altrettanto importanti di quello che uno studia a scienze motorie e richiedono altrettanto anni se non di più.